Sono ambivalente. Anzi, questa è la mia parola preferita adesso. Ma tu lo sai che cosa significa ambivalenza? Non mi interessa. Se è la tua parola preferita, devo pensare che debba interessarti. Significa non mi interessa. Ecco cosa significa. No, al contrario, Susanna. Il concetto di ambivalenza implica forti sentimenti in opposizione fra loro. Il prefisso, come in ambidestro, significa entrambi. Il resto della parola in latino significa vigore. La parola suggerisce che tu sei dilaniata fra due opposte linee di condotta. Insomma, resto o me ne vado? Sono sana oppure sono pazza. Queste non sono linee di condotta. Lo possono diventare, cara, per qualcuno. Beh, allora la parola è sbagliata. No. Io credo che sia perfetta. Quis ic locus. Quale regnum? Qualis mundis plaga? Quale mondo è questo? Quale regno? Quali spiagge? Di quali mondi? È molto grossa la domanda a cui devi rispondere, Susanna. La scelta della tua vita. Tu quanto vuoi indulgere ai tuoi difetti? Quali sono i tuoi difetti? E sono difetti? Se ti aggrappi a loro, finirai ricoverata in un ospedale per tutta la vita. Grandi domande, grandi decisioni. Grandi domande, grandi decisioni.